Passaggio di consegne per Giuseppe Conte, torno semplice cittadino ma il mio percorso continua, dice il Premier uscente salutato dal lungo applauso dei dipendenti di Palazzo Chigi. Francesco Cristino. Terminato lo scambio di consegne con Mario Draghi, Giuseppe Conte si avvia a lasciare Palazzo Chigi. È il momento del commiato nel cortile, prima gli onori militari, quindi il tributo sentito di collaboratori e dipendenti. Il Presidente le consegne restituisce l'affetto e non nasconde l'emozione. Si congeda, con lui c'è anche la compagna, Olivia Palladino. Ho sempre avvertito l'onore e la responsabilità di rappresentare l'Italia, scriverà poi su Facebook, anche dopo le scelte più gravose. Si sofferma sulla pandemia, sottolinea il coraggio della comunità nazionale. Abbiamo contribuito a delineare un percorso a misura d'uomo che rafforzasse, rivendica, equità, solidarietà, sostenibilità piena, poi lo sguardo al futuro. Da oggi scrive, torno a vestire i panni di semplice cittadino che non ho mai dismesso. Si chiude un capitolo, ma il mio impegno, a sicura, proseguirà su questo percorso. Sosterremo Draghi con lealtà e correttezza alla linea dei vertici 5 Stelle, ma restano i malumori sul ruolo del movimento nel nuovo esecutivo.